Buongiorno, sono Mattia e ti do il benvenuto su Dogfather, il sito di video informazione a SaiZamp, dedicato a quelli come te, che sono matti dalle gare per il proprio cane. Ho una domanda da farti oggi. Hai un'idea di quanto sono importanti i materiali con cui vesti il corpo del tuo cane? Lo sai che l'utilizzo di materiali sintetici o di bassa qualità può causare seri problemi alla sua pelle? E non solo. Per questo ho creato qualcosa da che non c'era. Un modo nuovo, etico e sartoriale di fare moda da cani. Orgogliosamente made in Barcellona, la città che amo più di tutte le altre. I papi se per quelli come te, che amano il loro cane alla follia, che per lui o per lei vogliono solo il meglio. Un brand ecologico, fatto su misura, che usa solo materiali naturali, che rispettano l'ambiente, le persone e gli animali che ne si vivono. E con questi materiali sani, ecologici, sostenibili e reciclabili, e i papis crea pezzi unici per il tuo amato quadrupede, che non sono solo belli da vedere o da usare, ma che rispettano il pianeta. Esattamente come fai tu, umano, ha due zampe che vuole dare un buon esempio. E per questo che i papis è molto più di un brand, è molto più di un prodotto, è uno stile di vita e una scelta responsabile. Per quelli come te, le cui parole d'ordine sono cane, amore e rispetto. Alza le zampe se sei uno dei nostri. Ti aspetto al prossimo video, dove scopriremo insieme un materiale cantastico. E ora ti hago una giornata cantastica.